7. Marco Aurelio Marco Aurelio Antonino Augusto 121-145 d.C. Meglio conosciuto come Marco Aurelio Imperatore filosofo e scrittore romano adottato nel 138 su indicazione dell'imperatore Adriano dal futuro suocero e zio acquisito Antonino Pio che lo nominò erede al trono imperiale. In Pensieri dice le cose che tu ti affanni a inseguire o a fuggire non vengono a te sei tu che vai da loro sospendi il tuo giudizio nei loro riguardi esse staranno in mote e non ti si vedrà inseguirle né fuggirle. Commento Il ti affanni a inseguire di Marco Aurelio vale il desideri passionalmente dei maestri cioè desideri con l'io. A che il desiderio si materializzi bisogna desiderare senza passionalità covando il desiderio ogni giorno dentro di sé senza l'ansia dell'io in attesa che la coscienza plasmi la forma fisica del desiderio allora saranno le cose a venire da te.